Dopo lunghe pedalate e camminate per i nostri camminatori, oggi è l'ultima tappa da Lugo a Santiago in Compostela, 108 km. La tappa forse è meno impegnativa, partiamo tutti felici di arrivare a Santiago. Grazie per la visione! Siamo arrivati a Santiago nel nostro cammino e con noi abbiamo portato 14 ragazzi. In rappresentanza di tutte le vittime della strada. Lorenzo, Thomas, Nicola, Simone, Edoardo, Nicolo, Andrea, Rosario, Giovanni, Luca, Sara, Elisa, Michele, Tommaso. Questi ragazzi avrebbero avuto più rispetto e le famiglie una legge più giusta. Grazie per la visione! Grazie a tutti!